La nostra bandiera E abbiamo trovato nel mondo delle persone che risuonano con questo nostro intendimento La qualità è una parola che tutti usano e che nessuno definisce Ma è uno stato d'animo, è qualcosa che si nasconde nel cuore delle persone Noi queste persone le abbiamo trovate nei paesi produttori Con lo straordinario lavoro di cernita e di selezione che fa la figlia Anna Con i quali intratteniamo dei rapporti permanenti Dove esiste uno scambio di cultura e di conoscenza tecnica E anche qualche volta di denaro Abbiamo questo stesso spirito in tutta la catena Che lunga 130 passi Che porta il caffè dai posti dove viene prodotto Alle tazzine che noi consumiamo La mia aspettazione con questo maestro Questa è stata completamente fatta E sono davvero gratuito con tutte le cose che ho apprezzato qui E soprattutto con tutte le persone che conosco qui Le diverse culture e soprattutto le diverse punti di vista Per il settore del caffè E questo network sarà molto importante per me Nel prossimi anni E credo che questo maestro Può riuscire tutte le scambi che ho avuto In la caffè cernita Questa è stata una grande opportunità per me Per ad esempio Per cui abbiamo apprezzato Qui siamo all'interesse Cominda qui Abbiamo di città Per i città E questa è una grande opportunità per me Per me Para di sapere cosa doing Perù Questa è Perù Questa ho assolutamente Penso che non sono rimane A volte E poi Conoscendo Merito Questo corso mi ha dato molti skilli per promuovere la qualità di caffè in Brasile, perché siamo un paese molto grande, e i Brasili non conoscono, ancora non conoscono come mangiare qualità, è un mondo molto nuovo, credo che il caffè è l'era di qualità che comincia ora, e io penso che se ogni Brasile comincia a mangiare e a comprender più quanto significa qualità nel caffè, abbiamo la possibilità di cambiare tutte le caffè nel mondo, e l'esperienza che possiamo avere da questo è qualcosa di di sicurezza, credo che il caffè deve essere più collegato con la sicurezza e la sicurezza, voglio vivere, voglio essere, essere semmo e essere più vivi nella vita. Ovviamente, ho ricevuto molto da questo corso, ma quando mi arrivo a Burundi, ho cercato di fare il mio miglioramento e aiutare gli autori in la industria del caffè, soprattutto i caffè dei caffè, dei caffè, dei caffè, dei caffè, dei caffè, so che si possono organizzare meglio per loro, in order di affrontare questa volatile environmente di prezziare nel mercato del mercato. Tutte le ricette di Mesa La ricette di Mesa mio esistente Oggi, la ricette di Mesa L'amore Il George today. I'm sure that I can say that. The curriculum are great, the experiences were great, so I wouldn't change nothing. These five months were very full of things and it's great to have a master that you have the opportunity to leave your home, to leave your office and be out of job for five months. It's not too long and it's very complete and from here I will take home all the best. What I'm taking home from here is the network of people I met here and the knowledge, the experience with interacting with one of the best knowledgeable persons in the coffee industry, in the world. I had very high expectations before coming here and I can truly say that they were all fulfilled. It was an amazing experience. The quality of the teachers was really, really good. We had teachers coming from abroad, different countries. Even the people who work at ELE, it was really, really a great opportunity. The students that were doing this master with us was also a really great people. The networking was amazing. It's going to be tough to go back to Peru because after five months being here, I'm going to keep very, very nice memories of these five months. And it's also nice to go back and to be able to put in practice all that we've learned here. And if anyone who's listening to this and is interested in attending the master, I could just say it's 100% recommendable. I love you. I love you. I love you. I love you. Grazie a tutti.